Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay, oggi siamo di nuovo insieme per parlare del nuovo eFootball. Infatti vi riporterò alcune indiscrezioni molto interessanti che parlano di un probabile cambiamento del gameplay e anche della grafica. Inoltre c'è anche una notizia ufficiale, quindi quest'oggi un po' di tutto. E ovviamente in seguito, perché no, andremo a giocare un paio di partite. Il primo avviso che voglio darvi oggi però, prima di andare ovviamente a guardare le indiscrezioni, è un avviso riguardante una partita molto molto importante. Infatti domani, giovedì 29 agosto alle ore 21, qui sul mio canale YouTube, andrà in onda in live ovviamente la finale del secondo torneo dedicato alla mia community. A sto giro non abbiamo avuto il tempo, causa vacanze ovviamente di streammare anche le semifinali, ma è doveroso farvi vedere quantomeno la finale. Ci sono due player fotonici ad affrontarsi, come direbbe il socio più socio che c'è, che è presente ovviamente domani con me nella live. E sono il detentore del titolo, che per la seconda volta ha raggiunto la finale, lo scandalo OP. Lo conoscete sicuramente, player fotonico, ha giocato con la Juve, ha giocato con la Roma, top 10 al mondo nel Dream Team, insomma, chi più ne ha più ne metta. Due volte campione italiano, tra l'altro. E Final Boss 10, a.k.a. Giorda 1997. Anche lui player fortissimo, che ha giocato anche la Serie B con la SPAL. Quindi stiamo parlando di pro, ragazzi, di pro player di un certo livello, e ci sarà davvero tanto tanto spettacolo. Non mancate, domani ore 21 su questo canale in live. E se volete essere sicuri di non perdere la live, vi lascio nel commento fissato in alto l'anteprima della live. Basta cliccare sul link e dopo schiacciare il tastino avvisami. Mi raccomando, non dimenticate l'iscrizione, la campanella attivata e un bel like a questo contenuto, se apprezzate questo tipo di video. E vi ricordo anche che faccio lezioni private su questo videogame. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione. Partiamo dalle indiscrezioni, ragazzi. Edilton Silva ci dice, novità nell'aggiornamento eFootball versione 4.0.0. Assistenza intelligente nei passaggi, attiva o disattiva quando vuoi questa assistenza, il giocatore avrà un maggiore controllo in modo che la palla non esce sulle fasce o sulla linea di fondo, sia durante il dribbling che correndo sulla linea laterale. Ma da quello che ho sentito è soprattutto una cosa legata ai passaggi. C'è un nuovo modo di avere l'assistenza nei passaggi, a quanto pare, ma sarà disattivabile. Poi comunque staremo a vedere. Quindi un cambiamento nel gameplay, perché questa funzione probabilmente, anzi no probabilmente, sicuro, se succede, andrà a modificare in parte il gameplay. Potrebbe esserci un gameplay nuovo e questo è molto importante. Miglioramento grafico specifico. Ci saranno del miglioramento nella grafica, soprattutto nella texture dei volti, del campo, e in generale andranno avanti con l'inserimento di più Unreal e meno Fox Engine, perché attualmente ancora si tratta di un misto. E migliore illuminazione, quindi l'illuminazione non dei menu, eccetera, eccetera, ma del campo sarà rivista e migliorata. Quanto meno si spera. Queste sono le indiscrezioni provenienti da Edilton Silva. Molto interessanti perché, come già detto, prevedono un possibile cambio del gameplay e della grafica. Io lo spero tanto perché magari dà quel brio, quella novità al gioco che può far risollevare nelle menti delle persone questo prodotto. Perché noi alla fine diciamo tanto, ma a noi se il gioco va bene, comunque, se escono nuove modalità, dovrebbe andare bene. Noi siamo solo contenti, anche se io personalmente sono uno che critica tanto, ma critico perché amo il videogioco in sé come concetto. Sono un pessaro, quindi vorrei ovviamente vederlo migliorare. Speriamo, speriamo che queste indiscrezioni siano vere. Un'altra cosa, questo fatto comunque della nuova assistenza che dovrebbe essere ancora maggiore da quel che si dice in giro, perché chiaramente Edilton non è l'unico influencer che sta riportando queste indiscrezioni, ma stanno girando per il web ovunque. E niente, quindi dovrebbe essere qualcosa che è l'unica nota negativa, secondo me, che va a aumentare ancora di più la CPU. Però vedremo, staremo a vedere, magari è qualcosa di positivo, non lo sappiamo. Quindi questo lato indiscrezioni. Lato notizia ufficiale, il Palmeiras è diventato squadra partner di football. Quindi ci sarà il Palmeiras come squadra partner. E poi abbiamo Durand il PES che commenta questa notizia ufficiale dicendo Palmeiras annuncia finalmente la sua partnership con Konami. Al momento non è previsto l'Allianz Park, cioè lo stadio del Palmeiras. Tenete presente che nonostante questo, i football 4.0.0 non avrà nessun'altra nuova squadra con licenza importante o nuovo stadio quest'anno vero, cioè con la licenza. Probabilmente il tasso di aggiunta di licenze è più basso dall'era PlayStation 2. Poi c'è un utente che gli chiede ma ci sono novità che stanno arrivando? Crossplay, modalità offline, modalità editor. E Durand il risponde niente, non aspettarti novità, niente per settembre, nulla. Però lascia aperta la speranza, per settembre, quindi forse per novembre che dovrebbe esserci un altro grande aggiornamento, non primario, ma un aggiornamento a quanto pare che dovrebbe portare tante novità. Novembre magari è quello, è il mese destinato a vedere finalmente nuove modalità e novità concrete su questo videogame. Che poi sì, magari a settembre con questo aggiornamento aggiungono la nuova funzione del gameplay, cambiano qualcosa, modificano la CPU, modificano la grafica. Sì, magari quello accade, ma comunque contenuti in game difficilmente arriveranno a settembre. Questo è il punto, cioè noi, ok, va bene, bello, se modifichi il gameplay, magari incrociando le dita, ripeto, incrociando le dita è qualcosa di positivo, non ne abbiamo la certezza, anche a livello grafico potrebbe essere qualcosa di positivo l'aggiornamento di settembre, ma comunque non ci sono modalità che quello è il succo, quello ci interessa. Alla fin fine, quantomeno secondo me, il gameplay è soggettivo, può piacere, può non piacere, meglio così, meglio con là, meglio prima, meglio adesso, ma se arrivano le nuove modalità piacciono a tutti, questo sto dicendo. Quindi, boh, saremo a vedere cosa succederà ovviamente a settembre e poi staremo a vedere in seguito cosa succederà a novembre. Allora ragazzi, io ho giocato un pochino ieri in privato e diciamo che sono salito top 800, anche se chiaramente non siamo per niente soddisfatti, siamo quasi a 1880 punti, 1878. Insomma, per adesso sta andando un po' meglio a livello di risultati, anche se questo gioco è strano, si sa, magari oggi non gira. Vedremo, vedremo com'è, io ce la metterò tutta come sempre. Matchmaking completato, mi vado come sempre a coprire gli occhi per non farmi condizionare, ormai lo sapete. Allora, noi rimaniamo così, non tocchiamo nulla, questo è il modulo dell'avversario e andiamo in campo. Siamo in campo, ragazzi, prima partita del giorno, prima partita dell'episodio, cerchiamo di fare bene. Eh, fuori gioco. Eh, ho fatto per annullarlo, ma non me l'ha annullato. Paccato. Ah! Uh, bello! Ah, dai, dai, buona, buona, buona. Uh! Ah! Mamma mia, peccato, peccato, dai. Uh, il liscio di Rijkaard. Mamma mia, quel Van de Venne, tanta roba, raga. Ne va Rummenigge? Uh, un po' più piano dovevo tirare. Un po' più piano. No, sotto l'incrocio la mettevo. Eh, me la so allungata. Non era una situazione facile, perché comunque l'aveva la difesa schierata. Van de Venne! Fuori gioco. A parte che mi ha anticipato. Però secondo me era pure fuori gioco. Molto bravo lui. Soprattutto in difesa. Eh, non riesco a uscire, eh. Manco spazzando. Eh, dai. Gran lavoro di via e ramo, purtroppo. Eh, dai, non lisciare Rijkaard. Rijkaard non è il primo liscio che fa in sta partita, eh. L'ha passata, in pratica. Ok, è molto forte, raga. Non riesco proprio a sviluppare bene l'azione, perché con l'L2 è fotonico. Con l'L2 è veramente fotonico. Quindi, quando è una persona così si fa fatica, perché ogni passaggio... Pam, te lo prende con l'L2. Dobbiamo cercare di usare qualche croc interrotta, qualcosa per... Eh, no. È sempre sulla linea, sempre. Guarda, guarda, guarda lì. Parato in manual. Vamos! Eh, l'ho detto. Che cosa ho detto prima? Qualche croc interrotta. E quello mi ha fatto passare. Da quest'L2 fotonico che ha. La croc interrotta. Fuori gioco. Van de Venne che prende lo spazio. Un passamancolarica. Ho riscoperto quella carta di Van de Venne. Mamma mia, raga. Fotonica. Fotonica, veramente. Qualcosa di assurdo. No, rimaniamo attacchi giù fino al primo tempo. Portiere, check. Proprio lui. Van de Venne. Uh, se me ne andavo. Guarda là. Meno male che è fuori gioco. Perché aveva trovato un buco. Ma è fuori gioco abbondante però, eh. 1-0 al primo tempo. Lui è molto forte, come già detto. Noi abbiamo fatto un numero. Per quello siamo riusciti a passare. Poi ha cercato anche di muovere il portiere. Ma grazie alla crocca. Volevo fare una crocca interrotta anche nel tiro. Ma è uscita solo la crocca. Poi ho visto che l'avevo spostato di là. E l'ho tirato dal lato giusto. Però... Eh, vedi. Fotonico. Nelle due è fotonico. Poi sbaglia in altre cose magari, ma... Lui è passato? Calma, non andare, non andare. Ma che cacchio era? Cioè io ho premuto fortissimo. Volevo andare in avanti. Vai, è rimediato. Oh, l'ha deselezionato, regà. Roba è strana. Scegliamo una tacca, innanzitutto. Bello schifo. Mamma mia. Oh, meno mai che c'è in manual. È fotonico, ragazzi. Anche non in manual, eh. Però comunque... Portierone. Uh, se la facevo prima, là. Mi con... Oh, maicon tanta roba oggi. Ecco brutta palla persa Fuori c'ero Nella porta Con il portiere mosso in manual Non ha preso la porta Facciamo pure dei cambi a breve Ha fatto quella crocca Sì di suola ma lenta l'ha fatta Ravandeven che copriva Vai check Spostato appena appena in manuale Poi la blocca addirittura Che carta E di là Proprio lui Van de Ven Ma 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 che Ma che giocatore è raga Van de Ven Comunque gliel'aveva tolta Che stava E' fotonico raga Per chi ha sta carta di Van de Ven Mamma mia Fa paura Ma è stanco però Sostituzione di giocatori Numero 80 Ronaldinho Numero 19 Messi Numero 23 Numero 37 Numero 9 Lasciano i gioco Allora Era 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 palla comunque Pari Buco completamente aperto Comunque è giusto Perché sta attaccando solo lui Io mi sto più che altro difendendo Lui è forte No O O O O O O Grazie. Vai, 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 vai. VAMOS! Fallo, fallo. Fallo, fallo. Fallo, fallo. Oh, pari. Eh sì, minuti di recupero se tiri fai gol al 100%. Va bene, dai. Giusto così, giusto così. Io ho dato tutto, non posso fare più di così. Pari, dai. Giusto, tra l'altro. Io ho fatto due tiri, due gol, è giusto. C'avevo pure velo script abbastanza a favore. Evidentemente doveva andare così, dai. Dovevamo pareggiare. Alle volte il gioco è così. Faccio comunque i complimenti alle mie persone. Avrebbe meritato anche la vittoria, secondo me. Però il gioco è così. Ci prendiamo il pareggio. Tante volte che ci succede a sfavore. Ah, voglio prima andare a vedere lui che cosa era, perché secondo me era molto, molto forte. Non mette posizione. Però sarà sicuramente un top 500 almeno. Come minimo. Che poi non mette il bollino in conto. Molti non lo mettono. L'avversario è trovato. Mi vado a coprire gli occhi, ovviamente. Allora, noi rimaniamo così. Questo è il modulo dell'avversario. E andiamo in campo. Andiamo in campo, ragazzi. Seconda partita del giorno. Seconda partita dell'episodio. Lui subito in pausa, così, di antipasto, di aperitivo, va in pausa. Subito, appena... Va bene. Non potevi fare nel menu quello apposito. No, eh. Bisogna andare proprio... Va bene. Attendiamo. Che poi la partita di prima, raga. Ripeto. A livello di statistica doveva vincere lui. Però bisogna anche dire che io le parate le ho fatte tutte in manuale. Non ci sono state parate automatiche. Ce l'ho spostato io il portiere per togliere le parate. Però ha giocato meglio lui. Avrebbe meritato la vittoria. Quello senz'altro. Che poi... In questo gioco, come nel calcio, non vince sempre. Per chi tira di più. Bello. Grande scambio tra brasiliani. Neymar è digno. Lui è tentato anche di muovere il portiere. Oh, di mano l'ha presa. Nooo. Una grande azione. Oh, in solitaria. Nooo. Una volta mi è capitato così, un po' più centrale, è andato in porta il rimpallo, raga. Complimenti. Bello. Come l'ha fatto quello stop, raga? Non ho capito. Questa è una posizione dove la pala va allontanata. Eh, buonanotte. Fallo. Secondo me era fallo. Eh, vabbè. Eh, buonanotte. Dai. Selezionato, ma purtroppo ho difesa squacquerata. Oh, me l'ha parata. Manual. Oh. olduğu contoso, eh. Ciao. 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 Ciao, ciao. No, lì ce l'hai Ronaldinho Mannaggia la miseria Vabbè, sono due, eh Sono due, raga No, segna lui, ma Dopo due pali, segna lui sicuro Ma guarda là, guarda C'è chi il miracolo ha fatto, eh Il miracolo, il miracolo, il miracolo Sono uscito col triangolo Come un pazzo Evidentemente oggi è così Ho detto, ieri gira, oggi no No, speriamo di portare a casa questa Eh, non sarà facile Due pali Demoralizzato per aver preso due pali Mamma mia, spaziamo perché Non la vedo felice la situazione Sì, vabbè, dai Il punto è che lui è veramente fortissimo Fortissimo in difesa E io sto cercando di inventarmi qualcosa Ma non è facile Poi l'arbitro non dà i falli Nooo Dai, tira VAMOS Dai Dopo due pali Che cavolo Non è ancora il momento dei cambi Sostituzione per il bari Numero diciotto Numero quindici Lasciano il campo per il numero nove Messi Sì, sì Sì, sì Oh, ma è possibile mai che lo devo prendere in testa? Bravissimo Bravissimo Eh, raga Io ci sto provando perché Comunque Sono attacche giù e non dovrei Fuori gioco Ah Ho messo una tacca sola Perché non avevo più persone in attacco Per quello Comunque ancora è presto per chiudersi e basta Almeno tra dieci minuti Eh, che cavolo Vabbè, Rijkaard Se fai lisci Se fai lisci Se fai lisci So cavoli Ma lui non ha incrociato E io sono rimasto in manual su quel palo col portiere Ma se incrociava era gol Perché? Perché Rijkaard ha fatto il liscio Allora Non mi sta bene Rijkaard Questa è la situazione Allora Vatti a fare un po' di panchina Amico mio Mettiamo Fabinho Mettiamo Perché tu adesso mi farai prendere gol Se no Eh Mettiamo Maradona Mettiamo Lumenig Mettiamo Rudiger Purtroppo devo Cambiare il mediano Perché Troppi lisci Troppi lisci Troppi lisci Tutti lui Tutti lui li fa Tutti lui Quindi Non è che tu dice Via ira No È lui che fa i lisci Gol 2-2 Non è giornata Regà Dopo questa si spegne Dai Ieri stavo come un caro armato Stavo Non è giornata Eh dai No Eh l'ho dovuto atterrare per forza Se no andavo a fare gol No giocheremo in 10 Questi ultimi minuti Giallo 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 Forse perché c'erano uomini a fianco Secondo me Era Era da rosso Secondo me Però Qui la vuole vincere Cambia tre volte Parata in manual Meno male che l'ho spostato Meno male che l'ho spostato Se no era gol sotto l'incrocio Torna sempre a lui Torna Ricciuto C'è vedi un po' Vedi dai Dai Liscio No Raga Ci è frizzato Io ho provato a fare la skill Non me l'ha fatta Incredibile Raga Incredibile Vamo E andiamo Il numero Tileao Finisce così Nei minuti di recupero Ho tirato E nei minuti di recupero Bisogna tirare Mamma mia Partita equilibrata Bella partita Sudata Però comunque ci fermiamo Perché Le cose Stanno andando così Ho preso due pali Comunque Meglio fermarci Prendiamo questi 10 punti Andiamo in positivo E per questo episodio Ci fermiamo Pensate Massimo Divisione 2 Raga Mi ha fatto sudare Mi ha fatto sudare E' meglio fermarsi Basta E stamattina Ci fermiamo Bene ragazzi Come già detto Noi per oggi Ci fermiamo qui Fatemi sapere ovviamente Nei commenti Che ne pensate Delle indiscrezioni Di inizio video E anche delle due partite Che avete appena visto Io come sempre Vi ringrazio Per essere stati In mia compagnia Noi ci vediamo Al prossimo contenuto Un abbraccio Dal vostro Simo Play Bella ragaz Ciao Ciao Ciao